Basta perdere la radio, non è rotta. Tommy Marcano portò un falsario da Cuba, giusto? Sal passò un paio di mesi cercando di stampare le banconote, ma non valevano un bel niente. Colore sbagliato, stampa storta, un sacco di problemi. Aveva bisogno di qualcuno diabile ed esperto. Così usò i suoi contatti e trovò un tizio di nome Alvarez. E questo Alvarez creava soldi falsi anche per Castro? Molti dei nostri nemici falsificano soldi americani. Merda, lo fanno anche i nostri alleati. Mi dispiace, è andato. Cosa vuol dire è andato? Non dovevi fare altro che andare fino al fottuto faro a prenderlo? Guarda che non è colpa mia se Alvarez e se ne va a spasso. Volevo rinchiuderlo, ma tu non hai voluto saperne. L'ultima cosa che ci serve è che Sarraga scopra che abbiamo trattato sua nipote come uno stronzo, capito? E poi arriva Lincoln Clay e spara a tutto e a tutti. Lincoln Clay? Lincoln Clay! Ehi, sono stanco di sentir parlare di quel succhiacazzi. È un solo uomo, un negro del cazzo. Siamo in bilico, Tommy, lo capisci? Se questa cosa va a puttane, siamo fottuti tutti noi. Quindi? Tu che cazzo faresti? Io che cazzo farei? Senti, non ci vuole certo un genio. Se quel negro è arrivato ad Alvarez significa che sa delle matrici e che le vorrà andare a prendere. Mi segui? Allora porta il culo in quella cazzo di palestra e proteggile! Sì, certo. Ci penso io. Questa storia finisce qui e ora. Basta, stronzate. Cazzo roia. Secondo questi rapporti, Tommy Marcano teneva la stampatrice in una palestra di box. Tommy sapeva che Lincoln voleva le matrici, ma sapeva di dover salvare le apparenze. Nel momento in cui iniziò ad annullare gli incontri e a chiudere il posto, la gente pensò che avesse fatto il passo più lungo della gamba. E lui non l'avrebbe permesso. Come fece Lincoln ad accedere alla palestra? Mi fece rintracciare un tipo di nome Alcy Bennett. Alcy era un piccolo truffatore che lavorava per Sammy, finché non lo tradì e venne cacciato fuori dal Lolo. Dopodiché si procurava da vivere reclutando lottatori per i jungle fights di Tommy. Garantì per Lincoln all'ingresso e in questo modo riuscì a entrare senza casino. Alcy è al braia pezzo qui vicino. Andrò a fargli un saluto. Voglio vedere come stai. Divertiti. Nel profondo di ognuno di noi, quando pensiamo tutti i ragazzi in dolore, stasera voglio un brinco. non vi ammere. No! Non mi raccordi. Non mi raccordi. Nel profondo di notizia, non mi raccordi. La rabbia è un'ottima musa. Ha ispirato una donna nera nel North Carolina a cantare del Miss Sepe. Si è ispirato un uomo nero del Lolo ai fati unirsi della frequenza di New Bordeaux per rurrare la verità. E' la verità, è che la notte è sempre più buia prima dell'alba. Per questa volta è tutto New World 2. E se vi poste ricordate, quando Lollo parla, è meglio stare a sentire. C'entra di andare verso il midweek, come? Come out to the Frankfurt, Lord. It's your uncle Lou Marcano here, letting you know that every night is the weekend in the Frankfurt, home at the four o'clock, Herbie. That's right. His... Ha ha, che io sia dannato se non è Lincoln Clay. Sorpreso di vedermi, Alzi. Ha sentito di Sammy Ellis. Brutta storia. Ma credo che tu ne sia uscito bene. Parla ancora di loro e ti apro dalla bocca al buco del culo come un maiale. Forza, facciamo un giro. Credo di avere altra scelta. Secondo te? Fammi strada. Ho stato via per un po', ma l'ho messo piede nel Lollo dal novembre del 65. Quasi sei anni fa. Lo so. Almeno puoi dirmi dove stiamo andando? La Katia. È dove Tommy Marcano organizza i suoi combattimenti. Già. E tu sei quello che gli porta i lottatori neri. Sì. Bene. Perché voglio entrarci. Cosa? Perché? Se avessi voluto fartelo sapere, te l'avrei detto. Se devo rischiare il culo, voglio sapere perché. Sei fortunato a essere vivo dopo quello che hai fatto a Sammy, stronzo. Pensavi che non si accorgesse dei soldi che hai rubato. L'ho pagata cara. Sei anni lontano dall'unico posto che abbia mai chiamato casa. Non so. Non ho neanche potuto veder morire mia madre. Hai fatto la tua scelta. E ora dovrei farne un'altra. Io lo faccio. Sei pulito. Puoi entrare e uscire da lui. Ci farai ammazzare! Vai, vai, vai! Non voglio finire, al fresco! Dovete intervenire subito. Vai, vai, vai! Non voglio finire, al fresco! Non voglio finire, al fresco! Sei pulito. Puoi entrare e uscire da Lollo quanto ti pare piace. Cazzo! Ok. Ho sentito che se vinci puoi incontrare Tommy. È vero? Mi piace valutare i campioni per capire... Quelli ci ammazzano, cazzo! ...sospettando l'aperto il fuoco contro le unità sul porto. Che stavo dicendo? Mi piace valutare i campioni per capire se sono materiale valido o solo dei fuochi di maglia. Dove succede? È solito nel suo ufficio. Uno dei suoi uomini verrà nello spogliatoio dopo l'incontro e ti porterà da Tommy. Tutto a posto. I lottatori non entrano da davanti. Passiamo dalla porta laterale. Sto nel suo uomo. Allora. Aspetta, Alci. Che cazzo è questo? Lui. È Sir Romanico Johnson. Che ci fa qui? Che cazzo significa che ci fa qui? È qui per combattere, no? Devo perquisirlo. Niente armi qua dentro. Fai quello che devi fare, ma... Occhio a dove metti le mani, stronzo. Risparmiate per il ring, coglione. A tutte le unità. Inseguimento annullato. Abbandonate le ricerche e tornate in pattuglia. Ripeto. Abbandonare le ricerche e tornare in pattuglia. State indietro, ragazzi. A questo serve un medico. Buttalo in un veicolo. La natura farà il resto. Va bene. Avanti. Come butta, Neville? Come butta, Alci? Tutto a posto. Vado a finire i preparativi. Registro il tuo nome e altre stronzate. Tu intanto va dentro a cambiarti. Chi ti sei portato dietro stasera, Alci? Uno nuovo. Il nuovo sembra tosco, ma i miei soldi vanno sul picchiatore. Dimmi un po' una cosa, Alci. Che vuoi? A voi negri piace così. Che succede se ci beccano? Proprio quello che pensi. Per poter ritornare a casa, ne vale la pena. A qualunque costo. Dobbiamo andare. Ci siamo. Nervoso? Dovrei. Direi che dipende da come va a finire. Esci da quelle porte. L'annunciatore dice il tuo nome. E tu te ne vai dritto, dritto al tuo angoletto. E tu dove vai? Ah, ci vediamo là. Adesso sei tu, la star. Mettere in mostra i campioni negri fa parte dello show. Entra. E la lotta continua, gente! Il prossimo a sfidare, Nick, un boom 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 è alto più di un metro ottanta e pesa quasi cento chili. Vi presento, Saravanico Johnson! Non vi sento, stronzi più forti! Spaccagli il culo! Fagli saltare i denti! Spaccagli il culo! Spaccagli il culo! All'angolo destro, Saravanico Johnson! Il prossimo assidante viene da Padre Imiis! Un applauso per... Oh, direi tu! L'odore... Dalla me! Boom boom era una schiappa in confronto. Continua a muoverti e non farti chiudere alla... Lontano dall'angolo. E c'è buco. Botte tralegri! Che cazzo era questo? Ho detto festa per figlio di puttana! Stasera, Saravanico Johnson è in forma! Ora tocca al campione! È il momento di far salire surdini la bestia del paioo! La furia di River Road! Il campione! Scava come... Boom! Dai, perché lo chiamano Scava Tom? Perché seppellisce gli stronzi. Beh, sì. Come lo tiro giù? La colpisci più forte che può. Forza, Nevi! Ballo secco! Avanti, sotto! Spezzalo in due! Spacca io il culo! Non lo apprezzi! Abbiamo un nuovo campione! Serra Manico Johnson! Ti piace, vero? Va bene, ragazzo, andiamo! Adesso? Adesso torni nello spogliatoio a prenderti le vincite. E tu dove vai? Io ho del lavoro da sbrigare. Scommetto che dopo tutti i cazzotti che mi hai dato... Devo ammettere, ma... ...ha bisogno di un nuovo manager. ...di battete bene. Cazzo. Devi pensare che io sia un completo idiota per entrare in quel modo. Non mi sono mai tirato indietro davanti a un rischio calcolato. Forse avresti dovuto. C'è un mesto dell'olio vegetale. Rende la benzina densa. Appiccicosa. Ora facciamo in modo che penetri per bene. Così che possa impregnare questa tua testa di cazzo. E poi, quando l'accenderò... ...quella merda brucerà come il napalm. E tu... ...stai per entrare in una valle di lacrime. Affanculo. Pronto a morire? Quando le fiamme ti bruceranno le gambe, sarai ancora sveppo. Mentre bruciano, farai una scoperta rivoltante. Prima di morire. Accompatelo! Prendite la cura! Non parlo! Possiamo parlarne! Gli unici con cui devo parlare sono quelli delle bombe funebri. Allora, questo è quanto? Pare proprio di sì. Sal voleva che studiassi leggi e lavorassi per una grossa compagnia. Che mi candidassi, magari. Fai qualcosa di decente nella tua vita, hai capito? Avresti dovuto ascoltarlo. Ce l'abbiamo nel sangue, sai? Sì. Sei quello che sei. Ormai è un po' tardi per pensarci, no? Vaffanculo! Stai davvero in un mare di merda! La! Parca trac... Ma che cazzo? Ma che moro? Inzido un bel sorriso. Passato uno dei nostri. Non ho più munizioni! Devo ricaricare! Sparategli, cazzo! Sparatevi fuori! Ci sta ammazzando! Troppo tardi, stronzo! Al riparo! Merda! Prenditela con un... Non ci sta ammazzando! Non ci sta! Cazzo! Ricarico! Spargerai per quello che hai fatto! È un piatto! Non posso muovermi, cazzo! Sta ricaricando! Adesso! Sono sbloccato! Abbiamo perso un altro! Passacrando! Sono sbloccato! Sta lontano! Sa lontano! No! Travato! Travato! Siamo a piazzi! Mi serve una mano! Vendite la mano! Qua pezzo di merda è fattuto! E qua! E qua! E qua! Mazzate! Non rimastate anche l'uomo! Non incopritemi le spalle! Metto il culo al sicuro! Ci sta massacrando! Ci sta massacrando! Vedete quel figlio di puttana! Guardate il giro, ragazzi! Vallo a saltare in arcia, cazzo! Sei fretta, cazzo! Ci sono insisi tutti! Vado a nascondermi! L'ha ammazzato! Capito e affondato! Coprimi! Devo ricaricare! Sono bloccato, cazzo! Al riparo! Restato lui! Adesso! Non farai per quello che hai fatto! Sei davvero in un mare di merda? Sei mio, figlio di puttana! Granata! E' un pezzo! Tutta fortuna, stronzo! Jubilato, vero? Cazzo, una granata! Qualcuno mi può dare una ma... Porca puttana! Non è possibile! 12.35, individuo sospetto a piedi. Unità di supporto sul posto. Gli agenti sul posto stanno affrontando il sospettato. Agire con cautela. Gli agenti sul posto. Edito, legati sul posto. Agilo! Agilo! Perfetto! Nel prossimo giro! L'agilo! Sì, dai, sì. Unità di supporto verso contatto visivo con il sospettato. Che ne è stato delle matrici che Salmarcano sottrasse alla Federal Reserve? Non me lo ricordo. Mi dicono che hai dato tu a Giorgio l'eroino da vendere. Sì, certo. Non l'ho mai voluta nella mia città. Quella merda fotte la testa della gente. La rende pazza. Stupida. Attira troppa attenzione. Barbon? No, io non bevo. Giorgio ti ha detto perché volevo parlarti? Ha detto che il negro ha ucciso tuo fratello. Che volevi discutere un accordo tra noi due. Mio fratello Tommy era molto intelligente, poteva fare di tutto. Ho provato a farlo andare all'università, glielo avrei pagato io stesso. Mi dispiace per la tua perdita. Sto costruendo un casino oltre il lago. Era tutto sistemato, anche come l'avrei pagato. E adesso è andato tutto a puttana. Tu vuoi i miei soldi. Beh, me ne serviranno abbastanza da finire di costruirli. Voglio sentirtelo dire. Dile cosa? Che tu vuoi i miei soldi. Dillo, per favore. Avanti. Voglio i tuoi soldi. Che bello. Ti porterò i soldi e in cambio mi lascerai vendere l'eroina nella tua città. E tu non interferirai in nessun modo. Certo, tutto quello che vuoi. Ma non è l'unica ragione. E vuoi che uccida il negro. Farò anche quello per te. Mi piace uccidere i negri. Cristo santo. Una volta qui c'era il bar dei semi. Nessuno voleva viverci e così l'hanno asfaltato. Lo sai, ogni tanto qualcosa colpisce questo paese. Lo scuote così forte che ne restano solo le fondamenta. E per quanto posso essere doloroso, speriamo che stavolta le cose andranno diversamente. Che quando ci sarà da ricostruire, non rifaremo quello che è stato fatto in passato. Che forse giustizia e pace finiranno per prevalere. Ma giustizia e pace sono severe, no? Alle volte troppo severe. Così scegliamo la via più facile. Lo scuote è Ehi là, vieni qui e siediti South Downs è nostra Tommy era furbo, ha messo su dei giri solidi e di basso profilo Sarà facile prenderne il controllo Ho fatto quello che hai chiesto Tutto il distretto funziona come un orologio e stanno arrivando i soldi Voglio solo una conferma ufficiale e possiamo metterci comodi Mi è tutto nuovo ma se vuoi comunque assegnarlo a me Io ci sto Il fatto è questo, Lincoln Far contendere i territori ai tuoi ragazzi si trasformerà in una gara a chi ce l'ha più lungo È di sicuro più facile per tutti se mi dai il territorio come hai fatto la volta scorsa Our nation once again Our nation once again Questo è tu, Oberg Sei un fottuto genio, ragazzo La prossima volta è già meglio Abbiamo finito? Ok, basta È tutto Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti